Il vincolo devo dire francamente che ci ha sorpreso, sono preoccupato perché è un vincolo molto esteso. Un perimetro esteso oltre 10 km quadrati attorno al santuario di Monteberico. E questa l'area è indicata dalla Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio di Verona su indicazione del Ministero per i beni e le attività culturali, su cui si intende porre un vincolo paesaggistico con importanti prescrizioni a livello urbanistico ed edilizio. Perché se siamo d'accordo che vanno assolutamente valutate e condivise a tutele dei ambiti che sono magari delicati, come può essere la Villa della Rotonda, andare a porre un vincolo che occupa di fatto un sesto del territorio comunale bloccandolo e quindi passando tutto per la Soprintendenza vuol dire di fatto bloccare tantissime opere. Ma non parlo di cementificazione, parlo semplicemente di un restauro, di un'apertura di una finestra, cose anche all'ordinario. E quindi credo che sia necessario rivederlo questo vincolo. Immediata la richiesta di dialogo con l'ente, a breve verrà presentato un'istruttoria contenente le osservazioni sul provvedimento. Anche se non vincolante, il parere della Regione Veneto è negativo. Se passasse così com'è, la norma potrebbe condizionare pesantemente il progetto esecutivo della TAV nel tratto Vicenza-Padova, che si sarebbe dovuto discutere in questi giorni. Adesso avremo una videoconferenza nei prossimi giorni con RFI, che è stata rinviata sempre per Covid, purtroppo, da settembre. E anche questo potrebbe rientrare sotto il vincolo. Quindi assolutamente dobbiamo velocizzare tutte le attività e non creare ulteriori vincoli di burocrazia. È una questione di merito proprio degli interventi che si vanno a fare, soprattutto nelle opere che riguardano quella zona. Perché ricordo che ci sono tutte una serie di opere di compensazione nel progetto preliminare, strade nuove, il ponte, eccetera, che ricadrebbero sotto questo vincolo.